E' una vita che mi dici un minuto, Agla. E tu, è una vita che c'è sta cassetta, ma a te si rompe mai? Guarda che Nino D'Angelo è un grande artista, perché lui, la moglie, non l'ha mai lasciata. Non è come Gigi D'Alessio, che poi sarebbe come tuo padre. Guarda un po', ma che bellezza, guarda che sole. Au, ma quello delle previsioni non sbaglia ancora, è un fenomeno. Mamma, sono i sette e un quarto. E beh, li porti a scuola una volta alla settimana, è possibile che devi fare sempre tardi? La colazione sta in cucina. Manco gli altri. Ma che l'ha? Ancora lì stai? E' una tazza di latte, non un litro. E che cavolo? Mamma, è il telefono! E abbassa sta musica! Non risponde, eh, che quello è tuo padre. Ora che sei invecchiato, gli servo, sei rifatto sotto. Ma chi? Che c'è, papà? Passami tu, madre. Mamma, ti vuole papà! Ma che hai risposto? Digli che fa la patente a lui, non ci vado. Papà, mamma con te, non ci torna. Non vuoi capire? Che ne hai fatte troppe le cavolate? Ah, io ne ho fatte troppe. A te quello che si è scopato, tu moglie ne ho fatte troppe io. I'm Matt Street.